Nel settore dei prodotti da forno il tipo di macchinario di processo ha una grande influenza sul nostro lavoro. Sia che si tratti di macchine per lo stampaggio, diciamo così, dei biscotti o macchine che fanno la stesura della pasta su un ulteriore nastro trasportatore sul quale poi dopo il prodotto subisce ulteriori trattamenti, queste modalità di produzione cambiano per noi completamente il modo in cui bisogna trattare il prodotto. Il biscotto può essere per esempio confezionato in sacchetti, nel qual caso viene trattato come un prodotto sfuso e elevato tramite elevatori e affacchini caricando delle macchine di confezionamento verticali dove delle bilancio multiteste fanno la dose e poi scaricano all'interno della macchina che poi fa effettivamente il sacchetto. Oppure possono essere confezionati in costa, quindi mettendoli uno in fila all'altro e ottenendo di fatto un pacchetto su un'incartatrice a portafoglio. La stessa cosa succede nel pane quando viene confezionato in modo indipendente oppure quando deve passare attraverso una macchina affettatrice. Quindi tutta una serie di soluzioni diverse che possono coesistere sulla stessa linea e hanno variazioni nella storia del prodotto e nel percorso che questo deve fare all'interno della linea.